Vediamo come funziona il motore sincrono invece. Questo stavolta si tratta di un motore a tensione alternata che viene utilizzato all'incirca come il motore in continua sia per realizzare servomotori sia per realizzare motori a velocità variabile. Vediamo come è fatto. Come al solito faccio un disegno molto molto semplificato, giusto il principio di funzionamento perché più di tanto non abbiamo. Disegno adesso il motore. Il rotore ha un magnete permanente o ha un avvolgimento. Quindi facciamo in generale il disegno dell'avvolgimento. Uso la solita convenzione per cui se metto una croce, la corrente entrante che queste sono croce, se metto un punto la corrente uscente. Quindi la corrente è una corrente continua, gira in questa direzione e quindi mi dà un campo magnetico verso l'alto, per come lo vedete voi, costante. Tipicamente, come abbiamo visto anche per il motore in continua, l'opzione di magnete permanente è per basse potenze diciamo minore del kilowatt l'opzione di avvolgimento cosiddetto di campo è per potenze più elevate è la situazione che abbiamo nel motore cosiddetto brushless. d'accordo in questo caso l'avvolgimento cosiddetto di campo non fornisce potenza che viene convertita in potenza meccanica quello è l'avvolgimento di armatura ma stavolta il motore sincrono l'avvolgimento di armatura è nello nello statore dunque, come è fatto lo statore? lo statore tipicamente è formato da un avvolgimento trifase a un polo dunque cosa faccio? traccio due piani a 60 gradi e metto tre avvolgimenti a 120 gradi l'uno dall'altro uno è questo chiamiamolo A orientato in questa direzione entrante sopra e uscente da sotto un altro è B ruotato di 120 gradi rispetto a A quindi vedete io li faccio in sezione il disegno è chiaro avete una spira che esce dove c'è il puntino e entra dove c'è la croce esce fuori dal piano e entra dal piano quindi questo è B e poi C è ruotato di altri 120 gradi e sull'altro piano io vi indico soltanto una spira in realtà ci sono N spire più o meno complanari o perlomeno in uno spessore per il momento piccolo in modo trascurabile per quello che ci interessa ecco questa situazione è la situazione di statore a un polo poi vi spiego tra un attimo che cosa vuol dire un polo se noi componiamo questo di solito lo devo fare se noi componiamo il campo magnetico generato da triavvolgimenti in questa situazione otteniamo un campo magnetico costante modulo ma rotante bene rotante con una frequenza angolare pari alla pulsazione dell'onda sinusoidale ok siccome io vi faccio conto per farvi vedere perché avviene così non sono sicuro che l'abbiate fatto mai quindi preferisco assicurarmi un po' della cosa allora abbiamo detto A è orientato in questa direzione l'avvolgimento A è orientato così se se vogliamo comporre il aspettate faccio prima un disegno qua sopra e poi lo ricopio di là allora l'avvolgimento A mi dà un campo se guardiamo nel centro il valore del campo nel centro mi dà un campo che è in questa direzione d'accordo B mi dà un campo in in questa direzione FI B e C mi dà un campo in questa direzione questo campo FI A FI B questo è il flusso del campo insomma proporzionare il valore del campo elettrico posso chiamare anche B A B B e B C non mi cambia niente in questa fase è in fase con la corrente che passa in ciascun avvolgimento d'accordo quindi vediamo prima di scrivere le correnti nei tre avvolgimenti e poi vediamo come sono fatti i campi allora avvolgimenti di statore in questo caso come vedrete gli avvolgimenti di statore sono gli avvolgimenti di armatura perché è la potenza che viene inviata a quegli avvolgimenti che viene trasformata in potenza meccanica allora usiamo per I A I B e C una terna di correnti trifase terna di correnti trifase come sono fatte sono tre correnti uguali in modulo sfasate di 120 gradi l'una rispetto all'altra quindi per esempio I A sarà del tipo radice di due I A se I A è grande è il valore efficace per seno di omega t più delta diamogli una fase generica I B sarà uguale a radice di due seno di omega t più due terzi più greco più delta e I B I C uguale radice di due I A seno di omega t più quattro terzi più greco più delta quindi l'una rispetto all'altra sono sfasate di due terzi più greco allora guardiamo il campo magnetico campo magnetico risultante allora vediamo prima la direzione X componente X quindi facciamo BRX allora che cosa c'è? c'è prima il contributo di A se tornate un attimo indietro vedete che A se questo è X e questo qua è Y A mi dà un campo magnetico che quando la corrente è massima mi dà un campo magnetico che è massimo negativo e lungo X quindi mi viene un'espressione tipo meno B diciamo che B è l'ampiezza massima del campo magnetico dovuta a una spira seno di omega t più delta quindi tra parentesi B è l'ampiezza campo magnetico di un avvolgimento di un avvolgimento piezza maxim campo magnetico di un avvolgimento quindi questo termine qui è quello dovuto ad A poi c'è la parte dovuta a B beh vedete B mi dà un campo magnetico in questa direzione quindi la componente X è il campo magnetico in questa direzione per il coseno di 60 gradi quindi per un mezzo quindi è un mezzo B per un seno che è in fase con i B quindi qui ho più un mezzo B per seno di omega t più due terzi pi greco più delta questa roba qua è in fase con B e poi per completare ho C che è in prima ho indicato ho indicato B ho indicato C per dire B ma è perché sono uguali in realtà in questo caso vedete anche C questo è B e fa 60 gradi C fa 60 gradi con l'asse X quindi C è lo stesso discorso questo è un campo proporzionale alla corrente che passa in C per il coseno di 60 cioè per un mezzo va bene quindi qui mi viene più un mezzo B per seno di omega t più quattro terzi pi greco più delta questo è il contributo di C quindi adesso posso svolgere qui mi viene un mezzo B questo seno lo scompongo in un seno di omega t più delta seno di omega t più delta per qui devo mettere il coseno di due terzi pi greco più B mezzi coseno di omega t più delta per coseno di due terzi pi greco poi questo è il pezzo B l'ultimo pezzo faccio lo stesso quindi viene un più B mezzi riuscite a leggere ce la fate eh vabbè aspettate cambio cambio colore viene meglio qui metto il seno di omega t più delta per il coseno di quattro terzi pi greco più B mezzi coseno di omega t più delta per il coseno eh per il seno di quattro terzi pi greco anche sopra avete ragione qua dite però allora qui le cose vengono abbastanza facili perché il seno di due terzi pi greco fa il seno di due terzi pi greco fa radice 3 su 2 il seno di quattro terzi pi greco fa dunque seno fa radice 3 su 2 ok il seno di quattro terzi pi greco fa meno radice 3 su 2 ok quindi questo vuol dire che questo termine e questo termine si semplificano se ne vanno no qua invece il coseno di due terzi pi greco fa due terzi pi greco il coseno fa meno un mezzo il coseno di quattro terzi pi greco fa anch'esso meno un mezzo quindi qui la risultante di questi è meno b mezzi meno b fa meno tre mezzi b per seno di omega t più delta quindi brx viene meno tre mezzi b per seno di omega t più delta se guardiamo la componente lungo y facciamo lo stesso esercizio viene più facile perché a non conta a non mi da componente di campo lungo y me la danno b e c b mi da una componente lungo y che è fatta che è in fase con la corrente in b e poi però quando proietto devo moltiplicare per radice tre su due cioè per il coseno di trenta quindi qua mi viene il coseno meno quindi mi viene meno radice di tre su due per b per abbiamo detto seno di omega t più due terzi pi greco più delta questo è il contributo di b e c invece mi da più radice tre su due perché quando lo proietto sull'asse y va con valore positivo l'angolo è lo stesso b grande e qui però c'è il seno di omega t più quattro terzi pi greco più delta questo è il contributo di c questo è la b risultante y allora se io faccio il conto adesso come ho fatto prima con le formule diciamo classiche della trigonometria qui mi viene un seno di omega t più delta per coseno di due terzi pi greco poi mi viene un meno radice di 3 su 2b per coseno di omega t più delta per seno di due terzi pi greco e qua mi viene più radice di 3 su 2b seno di omega t più delta per coseno di quattro terzi pi greco più radice di 3 su 2b coseno di omega t più delta per seno di quattro terzi pi greco ok allora di nuovo due terzi pi greco a seno un mezzo un mezzo no meno un mezzo quattro terzi pi greco a seno meno un mezzo quindi quando li vado a sommare qui c'è un meno qui c'è un più questa roba si semplifica e questo se ne va d'accordo di qua invece seno di due terzi pi greco fa radice di 3 su 2 seno di quattro terzi pi greco fa meno radice di 3 su 2 quindi qui ho un meno b r y viene meno tre mezzi i due termini si sommano in pratica b per coseno di omega t più delta e qui in pratica si vede che cosa succede io ho un immaginate per un momento che delta sia 0 ho una cosa che a tempo t uguale a 0 è orientato solo lungo y no? quando t è uguale a pi greco mezzi è orientato in questo modo quindi gira in questa direzione con velocità angolare omega vedete un campo circolare che gira con velocità angolare omega e ampiezza tre mezzi b ampiezza costante pari a tre mezzi b quindi l'avvolgimento di statore del tipo che abbiamo visto prima con una terna di correnti trifase e tre avvolgimenti orientati a 120 gradi l'uno rispetto all'altro mi dà come risultante un campo rotante di ampiezza costante e rotante con velocità angolare pari alla pulsazione bene quindi tornando un attimo indietro io mi trovo in questa situazione ho qua un campo che ruota BR che ruota con velocità omega e poi il campo dovuto allo statore scusate il campo dovuto al rotore che dipende invece dalla posizione del rotore è costante solidale con il rotore ora senza farvi il conto perché non non ha tanto senso nella pratica i statori si fa questo statore che vi ho fatto vedere è uno statore a un polo si possono fare statori a un numero maggiore di poli che cosa si fa per esempio uno statore a due poli ha gli avvolgimenti separati non di 120 gradi ma di 60 gradi l'uno dall'altro quindi per metterne 6 devo ripetere ciascuno due volte e facendo il conto esattamente in modo analogo a quello che abbiamo visto noi adesso si vede che si ottiene un campo magnetico rotante di ampiezza costante però con velocità angolare pari alla metà di omega quindi se io faccio un avvolgimento a n poli ottengo una velocità di rotazione del campo che è omega fratto n insomma un conto di trigonometria abbastanza facile ma insomma non ci non ci non ci complica allora quello che vedremo adesso nel funzionamento del motore sincrono è che questo campo rotante si mette a trascinare il rotore e lo trascina alla stessa velocità di rotazione del campo quindi il rotore si mette a girare a velocità angolare omega e quindi come vedrete la velocità angolare del rotore si regola aggiustando la pulsazione dell'onda triangolare delle onde sinusoidali di controllo dei triavvolgimenti di statore vediamo un pochino in dettaglio com'è che funziona vediamo adesso abbiamo visto qualche pezzo abbiamo visto abbiamo un rotore che ha un magnete permanente un avvolgimento di campo quindi ha un campo solidale con la sua posizione poi applichiamo una terna di correnti allo statore e otteniamo un campo magnetico rotante adesso vediamo un'altra cosa dimentichiamoci per il momento dell'alimentazione che applichiamo allo statore e vediamo che effetto ha il campo magnetico del rotore quando il rotore si mette in rotazione si mette in rotazione concentratevi per esempio sull'avvolgimento A quando il motore ruota il flusso del campo magnetico dovuto al rotore che si concatena con l'avvolgimento A varia nel tempo in particolare nullo nella posizione che è rappresentata in figura e massimo quando il rotore si trova nella direzione perpendicolare rispetto al piano dell'avvolgimento A quindi abbiamo un flusso del campo magnetico che varia nel tempo con una frequenza che corrisponde alla frequenza meccanica di rotazione del rotore e quindi questa variazione del flusso nel tempo causa una forza elettromotrice indotta ai capi dell'avvolgimento A e cerchiamo di quantificarlo dunque chiamiamo phi F A il flusso del campo magnetico del rotore concatenato con l'avvolgimento di statore A allora per vedere come varia nel tempo immaginiamo che questa situazione corrisponda a T uguale a 0 e e e quindi questo questo flusso sarà minimo cioè sarà non minimo sarà nullo qua in questa posizione in T uguale a 0 e quindi possiamo rappresentarlo in questo modo phi F A uguale a phi F valore all'ampiezza per seno di omega T quindi questa è una costante dell'ampiezza che è funzione della 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 dimensione dell'aspira del del campo magnetico del rotore eccetera eccetera insomma è una costante in pratica allora chiamiamo la forza elettromotrice indotta E F A forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento A sarà chiaramente fatto in questo modo sarà in proporzione al numero di spire dell'avvolgimento per la derivata rispetto al tempo di phi F A quindi N S per phi F per omega per coseno di omega T siccome ci torna comoda la presentazione fasoriale diciamo che F A E F A questo è il valore efficace quindi E F A sarà N S per phi F per omega diviso radice e due quindi come vediamo un po' se qui c'è un po' di spazio tanto mi interessa soltanto farvi vedere due orientamenti supponiamo che questo sia phi F A il fasore d'accordo allora E F A è in ritardo di 90 gradi poi abbiamo phi F B che è in ritardo no scusa non in ritardo in anticipo F è in anticipo di 90 gradi giustamente il coseno è in anticipo di 90 gradi questo phi F B è in anticipo di 120 e phi F C è in anticipo di 240 questi phi F B e phi F C sono l'analogo di phi F A però per l'avvolgimento di statore B e C dunque l'impressione è fatto confusione aspettate questa cosa mi confonde sempre allora questo è il seno questo è il coseno quindi si giustamente in anticipo va bene quindi ci manca un altro pezzettino che è l'auto induttanza dello statore vediamo come si può quantificare torniamo un attimo indietro allora ricapitolando abbiamo trovato la forza elettromotrice indotta su ciascun avvolgimento abbiamo visto l'effetto della tensione applicata sui tre avvolgimenti di statore e poi ovviamente questo campo magnetico rotante causa una forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento di statore su ciascun avvolgimento perché in ciascun avvolgimento abbiamo un flusso di campo magnetico che varia dovuto al rotore che varia e c'è un flusso del campo magnetico che varia dovuto a questo campo magnetico di statore che varia parte di questo per l'avvolgimento A è autoinduttanza perché parte del campo rotante viene causato dall'avvolgimento A quindi parte flusso autoconcatenato parte no perché è flusso generato dagli avvolgimenti B e C vediamo di rappresentarli tutti insieme e viene una cosa abbastanza dunque qui sono ok chiamiamolo questo Fi S A questo è il flusso del campo magnetico rotante concatenato con avvolgimento di statore A ma chiaramente l'avvolgimento di statore A ha un'autoinduttanza e guardiamo per l'avvolgimento all'effetto è abbastanza facile vedete in pratica guardate l'avvolgimento A se ci fosse stato solo lui avrebbe avuto una scelta un certo campo diciamo generato un certo flusso autoconcatenato in realtà siccome il flusso il campo magnetico rotante ha ampiezza pari a tre mezzi l'ampiezza massima del campo magnetico generato dall'avvolgimento A quando lo proiettate sul piano viene fuori viene fuori un un flusso dovuto a tutti e tre gli avvolgimenti di statore che è semplicemente tre mezzi di quello che si avrebbe attivando soltanto A d'accordo per cui in pratica l'induttanza dell'auto induttanza cioè la L dell'avvolgimento A nello statore è semplicemente tre mezzi di quella che l'avvolgimento A avrebbe da solo ok torna ricapitolando guardate il flusso della prima del flusso guardiamo semplicemente il campo magnetico che la componente del campo magnetico perpendicolare all'avvolgimento A come è fatta ampiezza massima tre mezzi B e poi è completamente in fase con quel col campo di ampiezza massima B che avrebbe generato l'avvolgimento A da solo in pratica come se l'avvolgimento A dentro lo statore avesse una auto induttanza pari a tre mezzi la propria induttanza ok vi vedo un attimo perplesso provo a dirvelo in un altro modo allora voi avete tre dunque per il momento lasciamo da perdere il rotore guardate soltanto lo statore voi avete tre avvolgimenti ok ciascuno e quindi immaginate di fare l'equivalente elettrico avete tre auto induttanze e poi avete tre mutue perché c'è una mutua induttanza tra tutte e due quindi se voi volete andare a descrivere il circuito completo dovete metterci tre auto induttanze e tre mutue ok nella realtà il problema è più semplice perché perché le correnti che vengono applicate tra i avvolgimenti sono in una relazione di fase fissata quindi se io vado a rappresentare il flusso di campo magnetico concatenato con l'avvolgimento A in generale che cosa dovete avere dovete avere il flusso autoconcatenato cioè quello dovuto alla corrente in IA poi il flusso mutuo dovuto all'IB e il flusso mutuo dovuto all'IC ma abbiamo già ricavato quant'è la somma di questi tre flussi la somma di questi tre flussi è un campo magnetico rotante pari a tre ampiezza pari a tre mezzi B quando lo proiettate sul piano su cui giace A ottenete una sinusoide di ampiezza tre mezzi B se vi ricordate B era esattamente l'ampiezza del campo magnetico generato semplicemente dalla corrente passante in A quindi in pratica la somma del flusso autoconcatenato di A più il mutuo dovuto a B più il mutuo dovuto a C è semplicemente tre mezzi quello dovuto soltanto ad A ed è perfettamente in fase con quello di A quindi invece di tener conto per l'avvolgimento dell'autoinduttanza della mutua con B e della mutua con C posso rappresentare il tutto con un'autoinduttanza più grande pari a tre mezzi L e basta d'accordo? questo è il in questo caso sto sfruttando il fatto che le correnti che passano entre avvolgimenti A B e C non sono indipendenti tra di loro ma stanno in una relazione di fase precisa ok? quindi in pratica questo qua è tre mezzi la L dell'avvolgimento dell'avvolgimento quindi questa comprende l'effetto della mutua dell'accoppiamento mutuo con B e con C allora quindi questo è definito questo ci sarà anche una forza elettromotrice indotta una forza questo campo varia ovviamente quindi ci sarà una forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento A che sarà la derivata di FSA rispetto al tempo per il numero di spire ed è in pratica per la definizione di induttanza e per l'equazione che ho scritto prima anche questa questa è proprio la definizione di induttanza niente più quindi di questa cosa qua della ESA si tiene conto semplicemente con la induttanza LA allora quindi a questo punto abbiamo tutti gli effetti magnetici e possiamo scrivere il circuito equivalente dell'avvolgimento A circuito equivalente per l'avvolgimento per l'avvolgimento in pratica in pratica c'è la forza elettromotrice indotta dal rotore dalla rotazione di rotore c'è questo qua che è la ESA che abbiamo visto prima questa qui immaginiamo che sia la corrente IA e questa è una diciamo una resistenza che tiene conto delle perdite per effetto Joule il fatto che comunque tutti questi avvolgimenti hanno una resistenza non nulla e questa è la tensione che applichiamo sul ai capi dell'avvolgimento e questo schema l'abbiamo già visto quando abbiamo visto il motore in continua soltanto che questo schema lo schema dell'avvolgimento armatura nel caso del motore in continua si trattava del rotore adesso questo è lo statore in pratica che cosa succede noi qua applichiamo un generatore questa VA è data da un generatore all'avvolgimento dello statore questo generatore EFA tiene conto della tensione indotta sull'avvolgimento di statore dalla rotazione del motore e questo generatore assorbe potenza ma la potenza in realtà non è non è persa perché è potenza che viene trasferita in potenza meccanica del motore di fatto abbiamo la potenza che eroga il generatore applicata allo statore viene in parte dissipata nella resistenza serie dell'avvolgimento per effetto Joule in parte viene accumulata nel campo magnetico di statore non viene persa viene accumulata e poi sarà rilasciata quando si ridurrà la corrente e in parte viene assorbita da questo circuito equivalente da questo generatore per essere trasformata in potenza meccanica quindi se voglio vedere la potenza a questo punto elettromotrice devo fare IA per EFA e questi sono due quantità sinusoidali e quindi bisogna fare il conto con la fase insomma faccio il prodotto dei due fasori quindi dovrò fare IA per EFA per il coseno dell'angolo tra i due qual è l'angolo tra i due me lo sono già segnato direi perché EFA è questo l'ho rappresentato qua vediamo un po' EFA è questo quindi diciamo la fase è pi greco mezzi di EFA mentre invece la fase di IA era sigma a t uguale 0 era sigma quindi se vado a rappresentare l'A ho che EFA lo trovo qua e IA lo trovo qua quindi questo è coseno di pi greco mezzi meno delta che è uguale al seno di delta copio l'espressione di FA che ho scritto prima FA è ns per phi per omega diviso radice 2 quindi IA per ns per phi per omega su radice 2 per il seno di delta questa è una cosa importante perché questo è massimo se delta è uguale a pi greco mezzi allora facciamo un po' di considerazioni P e m totale che vuol dire su tre avvolgimenti è il triplo di quello che ho segnato l'A che la stessa cosa vale per ciascuno dei tre avvolgimenti quindi viene un tre mezzi IA ns e phi f omega seno di delta dunque tre mezzi IA ns phi f per omega per seno di delta questo è uguale alla coppia per omega giusto la potenza della coppia per la velocità angolare da qui si vede che la coppia non dipende dalla velocità quindi noi vediamo c'è un po' di osservazioni che possiamo fare da questo fatto uno la coppia non dipende dalla velocità due la coppia e la potenza è massima quando massima se sigma è uguale a pi greco mezzi allora diciamo la formula nasconde un po' di cose abbastanza critiche che sono queste due la prima cosa che dovreste notare è quest'angolo di 90 gradi quindi in pratica tornando alla figura iniziale che cosa abbiamo abbiamo un campo magnetico rotante in questo modo immaginate questa penna nera sia il campo magnetico rotante e in pratica il rotore si aggancia in questo modo la coppia è massima quando il rotore che ha il campo magnetico nella direzione che indica da dito ruota nella stessa alla velocità di rotazione del campo magnetico rotante e mantenendo un ritardo di pi greco mezzi quindi è proprio il campo magnetico rotante che si trascina dietro a velocità sincrona per questo si chiama motore sincrono il rotore l'altra cosa è che chiaramente la velocità di rotazione del rotore varia perché il rotore inizialmente è fermo e poi chiaramente si mette a ruotare questo che cosa vuol dire vuol dire che se noi dobbiamo pilotare i tre avvolgimenti di statore con una tensione sinusoidale a pulsazione omega dobbiamo aggiustare la pulsazione della corrente in base alla velocità di rotazione del rotore d'accordo? quindi quando il rotore è fermo diamo lo spunto poi andiamo con tre correnti sinusoidali lente all'inizio quando il rotore viaggia lento quando vogliamo far accelerare il rotore aumentiamo la frequenza delle tre correnti sinusoidali di alimentazione dello statore e in base a quello controlliamo d'accordo? ed è così un motore sincrono moderno che si pilota cioè non si pilota usando tre correnti sinusoidali a frequenza fissa ma si pilota con tre correnti sinusoidali alla frequenza di rotazione del rotore quindi abbiamo bisogno di un convertitore di potenza che generi le correnti sinusoidali alla frequenza giusta va bene vediamo come si fa tipicamente più o meno le relazioni fondamentali le abbiamo viste quindi controllo di motore sincrono andiamo nella situazione di servomotore che è quello un pochino più interessante quando vogliamo fare un controllo preciso della velocità di rotazione allora il caso più più semplice è quello di eccitazione sinusoidale eccitazione sinusoidale vuol dire che diamo tre correnti sinusoidali al rotore com'è che funziona il controllo ma insomma è abbastanza simile a quello che abbiamo visto finora questo omega star è la velocità che vogliamo istante per istante dobbiamo conoscere la velocità a cui si trova il motore otteniamo qua l'errore che mandiamo a un controllore pi in base l'uscita del controllore pi ci da la coppia se guardate quello che abbiamo scritto qua la coppia immaginate per il momento che F sia fisso cioè che il rotore sia fatto con un magnete permanente che quella non sia una quantità che varia ma la coppia è proporzionale alla corrente quindi abbiamo bisogno di quando noi vogliamo recuperare velocità dobbiamo aumentare la coppia e questo vuol dire che dobbiamo aumentare la corrente ricordo dobbiamo da tre dobbiamo alimentare lo statore con tre correnti sinusoidale quindi questo questo valore di T star ci dà l'ampiezza delle correnti per conoscere le fasi delle correnti dobbiamo conoscere la posizione dell'albero motore nella posizione dell'albero ci dice l'angolo a cui si trova il rotore e quindi noi dobbiamo mettere le tre correnti in modo che la risultante del campo magnetico di statore sia pi greco mezzo in anticipo rispetto alla posizione del rotore quindi abbiamo bisogno dunque facciamo mettiamo qua il motore abbiamo bisogno di rilevare contemporaneamente sia l'angolo sia omega omega perché ci serve per il controllo ma l'angolo ci serve perché con l'angolo noi generiamo le correnti qui facciamo il calcolo delle correnti sono le tre correnti IA IB e IC con cui alimentiamo lo statore questo è il circuito di controllo delle correnti questo è il convertitore e le tre correnti vengono mandate allo statore pratica IA di T per esempio sarà del tipo IS certa ampiezza che dipenderà da questo da questo valore questo T è proporzionale alla corrente che vogliamo per deve essere seno di omega t più pi greco mezzi questo è il delta questo omega t è l'angolo perché abbiamo detto T uguale a 0 l'angolo è 0 prendiamo l'angolo rispetto alla verticale immaginiamo che l'angolo sia 0 T uguale a 0 quindi di questo è uguale a IS per coseno di teta quindi qui viene calcolato vedete questa operazione qua viene fatta dentro il microcontrollore entra la coppia che è proporzionale ad IS entra l'angolo teta facciamo IS per coseno di teta e troviamo gli a per trovare i B e i C chiaramente l'uno rispetto all'altro sarà sfasato di due terzi pi greco come abbiamo visto prima quindi B sarà del tipo IS per coseno di per seno seno di omega t più pi greco mezzi più due terzi pi greco e viene qui con S coseno di teta più due terzi pi greco e questo calcolo qui viene fatto qua dentro va bene? ritornano tutti i pezzi messi insieme quindi vedete in pratica imponiamo la corrente la corrente quella corrente IA questa è una IA asterisco desiderata adesso abbiamo un circuito di controllo della corrente che deve effettivamente imporre quella corrente nel nell'avvolgimento IA nell'avvolgimento di statore come fa? tipicamente si fa con uno dei meccanismi che abbiamo visto prima o con la banda di tolleranza o a frequenza costante stavolta chiaramente la IA star varia quindi per esempio se facciamo controllo della corrente con banda di tolleranza avremo una cosa del genere in pratica la corrente IA è facciamo più lenta la corrente IA desiderata è fatta in questo modo facciamola col tempi giusti è un coseno quindi facciamola così questa è una proporzione a teta questa è la IA star chiaramente la IA attuale sarà ottenuta con un controllo a bande tolleranza stavolta le bande di tolleranza chiaramente sono separate i delta e con A dalla corrente desiderata e quindi anche se variano nello stesso modo e poi abbiamo questo circuito per cui abbiamo un controllo di un ondare cioè controlliamo essenzialmente il duty sacco dell'onda rettangolare quando l'onda rettangolare quando la tensione applicata allo statore è alta abbiamo una corrente che sale su perché lo statore ha un comportamento induttivo ovviamente quando si supera la banda di tolleranza allo statore viene applicata la tensione negativa e quindi si va giù e così via quindi di fatto la corrente attuale dentro gli avvolgimenti segue questo andamento e la frequenza di switching è molto più alta della frequenza dovuta alla rotazione del rotore in questa situazione ora non ce la faccio a fare un disegno preciso ma insomma la tensione applicata chiaramente varia in questo modo ogni volta che cambia pendenza cambia eccetera qui mi perdo questa è la va e questo è il tempo viene in sostanza alla fine una modulazione PWM che viene fatta della tensione applicata all'avvolgimento A all'avvolgimento di statore se guardiamo in bassa frequenza io ho una modulazione sinusoidale ovviamente queste variazioni intorno alla sinusoide mi causeranno una vibrazione del una vibrazione perché chiaramente la coppia è proporzionale alla corrente quindi ho una oscillazione della coppia che sento come vibrazione più è più a inerzia il motore chiaramente la cosa meno la sento ma non è un effetto che si riesce completamente a eliminare d'accordo quindi ritornando vedete questo tipo di motori è tornato molto in auge quando sono diventati comuni i microcontrollori quindi è una cosa che pensate voi tutte le macchine elettriche sono cose del secolo di due secoli fa insomma del fino ottocento primi del novecento poi cosa succede pian piano il motore sincrop è tornato molto prepotentemente in 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 auge con il microcontrollore perché tutta questa parte in realtà di controllo viene fatta anche anche questa tutta questa parte viene fatta dentro un microcontrollore in effetti usciamo dal microcontrollore soltanto per pilotare i switch gli interruttori del convertitore di potenza e poi qua abbiamo bisogno di controllare la posizione dell'albero motore e la velocità con dei sensori di posizione e di velocità avremo una conversione digitale e questi segnali vengono presi dentro il microcontrollore tutto il resto è fatto tutto con un pezzo di codice notate l'altra cosa è che dal punto di vista della rivelazione è fondamentale riuscire a ricostruire punto per punto la posizione dell'angolo quindi in generale abbiamo bisogno di un sistema di sensori di posizione intorno all'angolo che ci diano con una precisione tipicamente di 5-10 gradi la posizione dell'albero perché per poter ricostruire la sinusoide d'accordo questa è una complicazione del motore sincrono la rivelazione dell'angolo per questo motivo spesso si usa un'eccitazione trapezoidale che vi faccio vedere subito che semplifica un po' la rivelazione della posizione dell'albero beh dunque diciamo l'uso dell'eccitazione trapezoidale nasce da un'osservazione che in realtà questa espressione che disegniamo questa espressione che ho scritto prima della forza elettromotrice indotta è in realtà questa forma cosinusoidale è in realtà una espressione idealizzata perché a che cosa ci si riferisce in pratica ci si riferisce a un campo prodotto dal rotore come dire uniforme attraverso idealmente una spira e poi perché a questo punto che cosa ho fatto ho preso il campo magnetico causato dal rotore e l'ho proiettato sul piano dell'aspira nella pratica le cose cambiano un po' perché il campo dovuto al rotore ha di solito una forma per cui è massimo al centro e poi tende a ridursi ai lati l'aspira non è una spira che sta solo su un piano ma ha uno spessore finito e quindi più che una sinusoide assomiglia a una forma un po' più schiacciata in alto è una sinusoide deformata che è più vicina a una forma trapezoidale che è una forma sinusoidale quello che si fa quando si vuole usare l'eccitazione trapezoidale è accentuare questo comportamento e quindi sagomare sia il rotore sia la forma dell'avvolgimento di statore in modo tale che la e con F A di T per esempio prendiamo sempre il solito avvolgimento A sia molto schiacciata al massimo quindi invece che una sinusoide sia praticamente trapezoidale abbia delle abbia quasi una zona piatta intorno al massimo ok quindi si accentua questo comportamento si progetta statore e rotore in modo da accentuare l'andamento piatto agli estremi che senso ha a fare questa cosa c'è un vantaggio perché a questo punto si può inviare dunque immaginate il periodo finisce qui giusto questo è T questo è 0 questo è T se lo centro questo lo centro nel mezzo della della semionda positiva allora che cosa si fa si divide in 6 parti uguali il periodo e si può inviare una corrente all'avvolgimento di statore fatta così una corrente che ha tre livelli massima per un terzo questo è un terzo di T poi è uguale a 0 per un cesto di T poi è massima ma di segno opposto meno Ia per un terzo di T ed è pari a 0 per un cesto di T e così via quindi che cosa facciamo invece di inviare una corrente Ia sinusoidale invio una corrente Ia fatta su tre livelli più Ia 0 e meno Ia quando andate a fare il prodotto potenza istantanea questa potenza che viene trasformata potenza elettrica che viene trasformata in potenza meccanica dovete fare questa cosa immaginate che questo valore massimo sia EF a grande e questo valore minimo della tensione sia meno EF a grande vedete che cosa succede vi trovate in un certo nel primo intervallo di un terzo T che sono costanti sia la tensione sia la corrente quindi valgono EFA per Ia c'è un altro intervallo di un terzo in cui sono costanti tutte e due e hanno valore uguale e opposto a prima e poi c'è un altro intervallo di un sesto T in cui il prodotto è 0 perché la corrente è 0 cioè quando varia la tensione mandate la corrente a 0 quindi che cosa succede che questo è uguale a EFA per Ia per due terzi del periodo ed è invece uguale a 0 per un terzo del periodo d'accordo? quindi se sommiamo le tre fasi ora non voglio stare a fare tutto il disegno ma immaginatevelo la fase B è ritardata di un terzo di periodo la fase C è ritardata di altri due terzi di periodo se andate a fare le somme vi trovate che a ogni istante due termini sono per due avvolgimenti la potenza è EFA per Ia e per uno è nulla a ogni istante quindi vi viene una potenza istantanea costante totale di T uguale a EFA per Ia per 2 diciamo per ogni T facendo il disegno facendo il disegno per bene se volete lo riuscite a ricavare perché c'è un vantaggio nell'usare questo tipo di eccitazione ripeto bisogna aggiustare come dire deformare progettare magneticamente la struttura in modo che poi la forza elettromotrice indotta abbia quelle regioni piatte ma dove è il vantaggio c'è un vantaggio forte innanzitutto la potenza è assolutamente costante questo vuol dire che anche la coppia è costante se vado a fare il conto io non ve l'ho fatto vedere il conto nel tempo perché vi ho fatto vedere la fase sinusoidale ma se io aspettate un secondo e se faccio dove l'ho disegnato il ecco qua qua l'ho fatto ok adesso qui ve l'ho fatto vedere nel caso sinusoidale ve l'ho fatto vedere soltanto con i fasori quindi non è perfettamente chiaro però immaginate nel tempo nel tempo io cosa trovo trovo che la potenza su ciascun avvolgimento ha una componente a frequenza doppia d'accordo questa componente a frequenza doppia la trovo su tre avvolgimenti non perfettamente in fase ma la potenza alla fine ha un andamento nel tempo che non è esattamente costante d'accordo in questo caso invece con l'eccitazione trapezoidale la potenza è esattamente costante nel tempo e quindi c'è una forte riduzione delle vibrazioni perché anche la coppia viene costante nel tempo l'altro vantaggio è che stavolta è più facile pilotare la corrente perché vedete io non ho bisogno di dare una corrente sinusoidale ho bisogno soltanto di conoscere gli istanti in cui gli istanti di commutazione se ho sei istanti di commutazione nell'arco del periodo vuol dire che ho bisogno di conoscere ogni 60 gradi che percorre l'albero non ho bisogno di una precisione maggiore quindi per esempio lungo l'albero nella rotazione mi bastano sei sensori posizionati ogni 60 gradi allo scattaio di ciascuno di quei sensori cioè quando l'albero passa vicino faccio la commutazione della corrente quindi è molto più semplice la rivelazione della posizione dell'asse di fatto questo come dire è diventato quando possibile quando diciamo la forma del del rotore dello statore la consente è diventata molto comune l'eccitazione tipo trapezoidale di nuovo ancora giusto per puntualizzare questa cosa per mantenere la corrente costante in queste regioni e a zero in queste regioni chiaramente bisogna applicare un controllo del tipo quello che abbiamo visto prima cioè banda di tolleranza oppure frequenza costante in modo da mantenere la corrente uguale nell'avvolgimento effettivamente uguale a quella desiderata va bene ci fermiamo